Per ogni malato l'imperativo è guarire, ma per alcuni tipi di percorso la cura del corpo non basta, serve anche quella dell'anima. Per le donne che hanno un tumore al seno, l'assistenza psicologica rappresenta un aiuto fondamentale per affrontare una patologia che impatta a volte anche pesantemente sul fisico delle pazienti. Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sottoporsi a esami di screening è un passo fondamentale per sconfiggere queste patologie. Da un punto di vista psicologico anche sensibilizzare la prevenzione è un fattore molto importante. Sappiamo che spesso approcciarsi a degli esami diagnostici, a delle visite, anche alle semplici analisi, a volte porta le persone ad avere anche delle paure, delle ansie che tendono un po' a rimandare queste visite importanti che invece devono essere comunque calendarizzate in maniera serrata, soprattutto in casi particolari. Per esempio quando c'è una familiarità, quando c'è una storia all'interno della propria famiglia dove si riscontrano delle malattie importanti come per esempio quella del tumore al seno. Prevenzione, questo sì, importante. Quanto magari anche in base alla sua esperienza ci sarebbe bisogno di lavorare ancora sotto questo punto di vista? C'è da lavorare molto ancora perché la prevenzione a volte viene vista come una calendarizzazione che dobbiamo fare per forza, quando invece dobbiamo conoscere anche tutti i vari tipi di prevenzione. Per esempio per il tumore al seno ci sono sia dei pacchetti di diagnosi, ma a volte anche in casi più importanti, quando c'è una storia importante anche di cancro al seno che potrebbe avere una natura genetica, a volte anche gli interventi possono essere risolutivi e devono essere considerati come interventi appunto preventivi. Quanto è importante non sottovalutare anche l'assistenza psicologica per chi si trova ad affrontare percorsi di questo tipo? Poi pensiamo per una malattia di questo tipo così impattante per una donna. Sì, infatti. Per una donna un cancro al seno è sicuramente molto impattante sia da un punto di vista psicologico, familiare, ma anche estetico. E non è una banalità dire questo. Infatti sappiamo che le cure, gli interventi chirurgici portano a delle mutilazioni importanti che hanno un impatto forte per la donna da un punto di vista relazionale, da un punto di vista anche di coppia, da un punto di vista sociale. E quindi a volte un sostegno psicologico che fa sì che questi processi di elaborazione di queste perdite, di questi dolori, possano essere anche in parte accelerati. Per quello che riguarda l'assistenza psicologica si potrebbe fare di più oggi nelle sedi ospedaliere? Sicuramente sì. Noi crediamo molto nella psicologia ospedaliera, ossia uno psicologo al servizio di ogni reparto che possa intervenire laddove se ne riveli un po' anche la necessità.